Gli ospedali oggi devono affrontare sfide sempre più importanti per diminuire i costi energetici e per aumentare l'efficienza operativa, per liberare tempi e risorse da dedicare alla cura delle persone. Noi di Schneider Electric abbiamo intrapreso diverse attività in collaborazione con i nostri partner per rendere l'ospedale pubblico e privato pronto alle sfide del futuro. Le parole chiave sono il per efficienza, resilienza, sostenibilità e rispetto delle normative. Saremo presenti all'Hospital Building Management per raccontarvi cosa sta facendo Schneider Electric e cosa stanno facendo i suoi clienti per ridurre l'impronta climatica negli ambienti sanitari. Vi aspettiamo numerosi il 17 di aprile presso il convegno che si terrà all'interno di Expo Sanità. Grazie per la visione!